prima novità di oggi ne dico la i wishy squishy plushy dei bellissimi peluche squishy a lento rilascio sono carinissimi sempre tutti quanti ricamati in vari colori ecco qua vediamo se si riesce a intravedere qualche campione costano 5,99 euro ecco qua un altro si intravedono le azioni di tutti ecco qua il porcellino questo che roba è un panda boh non si capisce hanno tutti quanti in abbinata il libretto illustrativo eccolo qua dove si parla un attimo della raccolta e dove si fa qualche test e qualcosa di vario novità ecco qua